Perché, Nora, perché? Perché, Nora, perché? Lasciami andare, mamma, sono stanca. Perché hai fatto questo? Cosa ti mancava? Cosa ti è successo? Ma niente, te l'ho detto, niente. Niente? E per niente una ragazza all'età tua cerca di ammazzarsi, ma tu mi vuoi fare impazzire? Parla! Alto là, mo dico, mo lo vuol ben capire che con me non ha tacca brisa. Ma guardi che io... Ma lo sa, caro il mio Don Giovanni, che a me gli uomini non mi interessano. A me interessano solo vacche, tori, conigli, pogli e fagiani. Ale, aria, con me non c'è proprio niente da fare, sa? Non sono mica come mia sorella, che basta che lei si lanzi l'occhiata assassina e quella patasgnaffete, giù, come una peracotta. Guardi, io non volevo assolutamente... Ma cosa vuol fare con quelle mani? Ma stia ben fermo, sa? Tieni su quelle mani, mo dico, mo lo ora è impazzito, eh? C'è dato di volta il cervello. Vieni, Monica, non sei fame!